All'ASFA di Trapani, un applauso quello grande e caloroso di questo pubblico ridotto quest'anno però queste sono persone che dobbiamo ringraziare davvero tanto e non davvero è emozionante sapere tutto quello che state facendo, che avete fatto e che continuerete a fare perché purtroppo il Covid ancora non ci ha lasciato. È stato questo uno dei momenti più emozionanti vissuti ieri sera a San Vitolo Capo durante la premiazione della diciottesima edizione del premio Saturno un riconoscimento che ha visto numerosi rappresentanti dell'ASP lì sul palco a raccogliere quello che voleva essere ed è stato un pubblico ringraziamento a chi in questo difficilissimo periodo di pandemia si è dato ed impegnato al massimo possibile. Innanzitutto il premio non lo ricevo io, io lo ricevo in maniera figurata ovviamente per tutti i colleghi dell'ASP perché abbiamo fatto un gran lavoro in questo anno e mezzo io devo veramente ringraziare un po' tutte le componenti dell'azienda ovviamente siamo ancora dentro la pandemia però ci fa piacere un momento come questo anche di riconoscimento del contesto sociale che ci ospita come azienda sanitaria e quindi sono molto contento, sono venuto qui con una delegazione rappresentativa dei miei colleghi che diciamo hanno avuto un ruolo attivo in questa battaglia contro il Covid e siamo molto contenti ma soprattutto ci fa ben sperare il fatto che la nostra terapia intensiva è vuota Covid oggi non abbiamo pazienti ricoverati in terapia intensiva abbiamo 25 pazienti ricoverati Covid nelle nostre strutture ospedaliere e questo ci fa molto sperare perché avevamo dimensionato, siamo arrivati ad avere oltre 150 pazienti ricoverati quindi contemporaneamente ovviamente quindi io sono abbastanza ottimista, cioè il vaccino, la campagna di vaccinazione sta dando gli effetti sperati Prima nel pomeriggio per Tempurica Puna erano andati in scena due cooking sul pesce azzurro uno a cura di Angela Brignani dell'Associazione Ristoratori Associati San Vitesi e l'altro a cura di Pino Maggiore che ha creato un couscous con il capone i due appuntamenti sono stati inframezzati da un talk show sul tema dello sviluppo moderno e biologico dell'agricoltura quindi è stata la volta dei premi che ieri sera, oltre all'ASP, sono andati all'Associazione Pescatori San Vito Lo Capo e a Federalberghi a chiudere la serata a Sasa Salvaggio e la sua frizzante e coinvolgente comicità oggi nel giardino del santuario di San Vito in programma altri cooking ed altre ricche degustazioni oltre ad un talk show sulla biodiversità della terra di Sicilia poi a sera tornerà il premio Saturno che assegnerà quattro statuette ad altre tante eccellenze produttive del nostro territorio in chiusura serate assicurate con Ernesto Maria Ponte insomma un'altra imperdibile giornata ricca di appuntamenti per questa edizione di Tempurica Puna e premio Saturno a presto! a presto! a presto! a presto! a presto!